Tragedia la scorsa notte sulla 1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Cassino e San Vittore in direzione Napoli, dove si è verificato un terribile incidente. Il drammatico schianto è accaduto poco dopo le 2.30. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Cassino. Secondo le prime informazioni, le vittime sono i conducenti di due tire e un'altra persona, al vaglio delle forze dell'ordine, la dinamica dello schianto.